No, quadrato. Pronto, Dudu? Ci siamo, Patrick, Iureli. 3, 2, 1, go. 3 minuti di gara, 30 secondi di best trick. Si, you win for the world. We'll get the whole way. Oh, forgive me. We have the... 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 Grazie a tutti. 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 3, 2, 1... 5, 2, 1... 5, 2, 1... 5, 2, 1... 5, 2, 1... 5, 2, 1... 5, 2, 1... 5, 2, 1... 5, 2, 1...